Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amore. La benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questo luogo, su quanti vivranno e verranno come alunni, e discenda su tutti voi, per sempre, amore. Buongiorno a tutti, devo dire la verità, è sempre una grande emozione aprire le porte di un micronito. Questo micronito, mi permetto di dire, porta anche un portato di perseveranza amministrativa, sindaco.